Si chiama dieta della pancia piatta e nasce da un'idea del noto medico statunitense e conduttore televisivo dottor Mehmet Cengizhoz. Prevede pochi carboidrati e grassi buoni che aiutano appunto ad avere una pancia piatta perché sgonfiano. Dura 21 giorni e sono banditi, zucchero bianco, dolci industriali e dolcificanti dietetici, alcol e latticini tranne lo yogurt greco. Via libera al brodo vegetale, le verdure non amidacee come carciofi, asparagi, zucchine e pomodori e proteine circa 340 grammi al giorno. Un esempio di menù può prevedere colazione con frullato proteico, caffè e una manciata di noci o una mela. A pranzo proteine con brodo vegetale e carne o pesce, 150 grammi, più verdura senza restrizioni di quantità. Per gli spuntini, privilegiare lo yogurt greco. Per quanto riguarda la cena, può andare bene un passato di verdure con un trancio di trota cotta al vapore con asparagi. La cena non va consumata oltre le 20 e sarebbe bene non mangiare più nulla fino alla mattina dopo. Come per ogni nuova dieta, è sempre bene consultare un medico prima di iniziarla.